salve a tutti io sono guido verosimile e questo è serie c questione meridionale l'appuntamento che fa il recap del girone c di serie c questa settimana c'è stato un turno infrasettimanale e la chiusura del mercato a cavallo delle due giornate quindi usciamo dai nostri binari soliti per fare un riassunto di ciò che è successo durante la settimana come sempre partiamo dal fanalino di coda la vita erbese i gialloblu non solo escono a mani vuote dal doppio confronto ma perdono anche il loro giocatore più talentuoso infatti emilio colpicelli è andato al san giuliano milanese e quindi è anche una grossa perdita per questo girone la società è allo sbando il mercato è stato raffazzonato con vari casi abbastanza comici a battere la vita erbese nell'ultimo turno invece ci ha pensato un gol al novantesimo di simone andrea gans approdato a latina nell'ultimo giorno di mercato i pontini infatti hanno deciso di spendere tutti i soldi ricavati alla gestione di giorgini al su tirol per acquistare gans belloni e soprattutto furlan per fare quindi un un salto di qualità in avanti dopo una gara dominata ma finita in dieci per l'espulsione di un altro nuovo acquisto calabrese il latino è tornato alla vittoria dopo il parigio a riti bianche nella gara di domenica contro l'avellino proprio i lupi hanno cambiato volto da una giornata all'altra e il motivo ha un nome un cognome e un contratto molto oneroso si parla infatti di michele marconi nuovo centramanti dei lupi che ha già fatto scrivere per ben due volte il suo nome sul tabellino dei marcatori nella trasferta di potenza vinta per 2 a 4 l'avellino è all'ennesima rivoluzione tecnica della gestione d'agostino avendo ceduto dieci giocatori over tra la squadra del campionato con più cessioni in assoluto ma comunque sono arrivati anche sette acquisti tra cui Simone Benedetti difensore centrale che ha bagnato con il gol il suo esordio l'avellino ha giocato bene a potenza in una gara aperta da russo su una giocata di trotta che ha malato a vuoto rocchi altro è rinforzo questa volta a casa a potenza ex di turno che però non convince il potenza ha comprato infatti 4 nuovi giocatori per fare i titolari per puntare i playoff fanno infatti meglio al Zezmanovic e cittadino mentre male è fermato ad un infortunio e ne è arrivato Murano il bomber triste che però in un gol con la maglia del potenza al partenio il mio ricordo fece esclamare a me e mio padre che cattiveria che voglia di fare gol cattiveria e Murano ora sembra impensabile associarli ma a potenza era realtà non era però il suo debutto assoluto aveva già esordito in campo a Crotone nella sfida pareggiata per 0-0 i pitagorici si sono poi rifatti con la vittoria di Castellammare di Stabbia che porta la firma di Cernicoi la punta appena acquistata per sostituire il deludente Tuminello e l'inadeguato Bernardotto entrambi andati via è riuscita subito a sbloccarsi mettendo a tacere le mie critiche essenzialmente in quanto ero già pronto a dire che non segna mai che non è mai decisivo che il Crotone avrebbe dovuto puntare più in alto e invece ecco il classico, dopo il classico gol da punizione di Chirico ci ha pensato proprio Cernicoi a vincerla e ribaltando quello che era stato il momentaneo pareggio di Pandolfi che ormai gioca centravanti per le Vespe che hanno mandato via l'ultimo giorno di mercato Santos senza averlo sostituito quello della USA è stato il peggior mercato del campionato anche per questo probabilmente si sarà dimesso Mr. Colucci almeno però ci divertiremo con le interviste del neo arrivato Sandro Pokesci il rullino di marcia però della seconda del Crotone non è diverso da quello della prima il Catanzaro infatti dopo un pareggio a Messina ha vinto in casa con la Turris e resta a più 10 è bastato un gol di Sounas che è tornato titolare dopo l'esclusione per far giocare dal primo minuto Brignola a Messina già definito Brignola questo l'acquisto per la B del prossimo anno il Catanzaro non è nel suo momento di forma migliore anzi tuttavia anche se finisce in 10 rischia pochissimo contro i Corallini che fanno fatica ormai nelle sabbie mobili della zona play out il mercato infatti è stato vivace Michele Guida e il colpo ma sono anche tornati Franco e Zampa accolti Maldonado e Miceli ma non sono mancate le cessioni il Tresantaniello infatti su tutte la più pesante è stata quella di Claudio Manzi calciatore è diventato famoso perché è entrato nella storia del trasferimento di Osiman al Napoli dalla parte sbagliata ovvero era uno dei ragazzi acquistati per circa 5 milioni di euro da Lille poi fatti giocare una mezza stagione in serie D francese rimandati in Italia Manzi infatti era partito anche in maniera abbastanza improvvisa, rogambolesca verso Chiavari la Turris aveva perso anche il derby napoletano 0-2 col Giuliano trascinato dal doppio assist di Pio Vaccari i cui compagni di reparto in realtà sono cambiati molto in questo gennaio le squadre ne ho promosse infatti stanno cercando di mischiare le carte in avanti anche talvolta scambiandosi i calciatori alcuni acquisti però del Giuliano vanno menzionati ci hanno colpito più di altri è stato preso un portiere dalla serie C greca ha acquistato anche Salah Bascia che però per un mese non sarà disponibile perché in under 20 in Coppa d'Africa under 20 con l'Egitto e poi c'è Eiyango che appartiene al ristretto club dei calciatori che hanno esordito in serie A entrando nel secondo tempo per poi venire sostituiti per scelta tecnica da Mr. Ballardini al Genoa dopo solo 20 minuti per un'altra neopromossa il Cerignola l'acquisto più importante invece è stato mantenere Malcore ma forse serviva qualcosa a centrocampo che sia all'interno o all'esterno dove sono stati sovrastati dal Monopoli alla seconda vittoria consecutiva dopo il trionfo casalingo con la Juve Stab che ha firmato Moulet il difensore infatti è appena arrivato anche lui dal Catanzaro comunque un ottimo centrale di categoria è arrivato anche Santanillo ma induttile Gennotti e sono soprattutto stati mandati via il pacco di Simeri e Montini di cui avevamo raccontato il litigio con i compagni solo 0-0 invece è il turno tra Fidelis Andria e Virtus Francavilla l'Andria riesce nell'impresa di non vincere in casa con la Virtus Francavilla in una gara avara di occasioni perso Urso l'Andria ha provato a fare la spesa tra vari scarti di squadre Serie C prendendo varie punte vari difensori centrali noi ci vedremo i più esotici ovviamente stiamo parlando di Pastorini centravanti uruguaggio che arriva dalla Serie A peruviana e Borg un difensore centrale maltese che giunge proprio dal campionato locale dall'altra parte invece dall'altra parte invece un mercato povero che rispecchia l'anno di transizione della Virtus Francavilla e la volontà di affidarsi a San Cosimo Patierno arrivato a 13 gol con la marcatura che ha aperto le danze per il 3-0 di domenica sul Monterosi che da accanto suo invece vuole appoggiarsi ancora di più a Costantino dopo aver ceduto Damiano Cancellieri all'ultimo giorno al Perugia in Serie B nonostante ciò grazie comunque alle parate del neoportiere forte arriva un buon pareggio nell'infrasettimanale con il Pescara in crisi ormai da troppo tempo ma con il caso Lescano che sembra rientrato e che può portare alla tranquillità giusta per far esplodere nuovi interessanti acquisti come Merola Rafia Gozzi Etienne Catena preso dallo Sporting Lisbona comunque tutti giovani di belle speranze un altro caso coinvolgente in questa Serie C era stato quello di Infantino appena passato alla Gelbison in prestito dal Taranto due squadre che si sono affrontate domenica lui infatti non le aveva mandate a dire a Ezionino Capuano ha accusato addirittura di essere l'anticalcio e un difensivista che quindi non portava diciamo era lui il motivo per cui Infantino non segnava infatti da ora tiferemo un po' per Tuminello ottimo acquisto per la Gelbison sperando che possa diventare il titolare mercato Tarantino invece fatto di gente fuori rosa delle altre squadre come Crecco e Bifulco e vari sconosciuti che verranno sicuramente valorizzati da Ezionino Capuano ma che non sono ancora pronti mercoledì infatti il derby col Foggia è andato ai Satanelli vittoriosi per 2-0 grazie ad un'ottima gara di un ritrovato Ogunseie che forse ha giovato più di tutti il ritorno al Novara di quel blef di Vutai da segnalare anche un altro acquisto da Malta stiamo parlando di Ruitens lo spagnolo soprannominato dai Foggiani Michael Schofield per la sua aggressività inoltre è anche tornato Vacca che si stava già allenando con l'Ascoli ma che ha scelto di sposare la causa dei rosso-neri il Foggia ora è quarta però può essere anche raggiunta a pari punti dal Picero una squadra che si è mossa bene abbiamo parlato già di Ceccarelli e del Mausso nelle scorse puntate ma soprattutto ha mandato via tanti esuberi Gerardi su tutti magari qualcosina da rivedere sul portiere ma una grande squadra per il budget a disposizione passiamo 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 finalmente alla regina del mercato invernale anzi al messina del mercato invernale perché loro la regina non è che l'ammino più di tanto i peloritani infatti sono la squadra che è uscita protagonista da questo mercato hanno già fatto in questo 2023 già tutti lo stesso a montare di punti totalizzato nel girone di andata il mercato si era aperto con Fumagalli che diciamo abbassa la sala cinesca della porta messinese ma anche Kragl ottimo acquisto Perez dal Francavilla giocatori comunque di spessore era arrivato anche Helder Balde Ibu Balde un altro Balde è esploso totalmente sta segnando a non finire da quando è tornato Torocini ma poi come vuole sottolineare il presidente Sciotto ha regalato il colpo di questo calce mercato parliamo di Antonino Ragusa messinese ex Sassuolo lo ricorderete probabilmente in Serie A che è tornato quindi a casa per salvare il Messina per oggi era tutto dalla prossima torneremo con il nostro format solito augurandovi quindi buona giornata vi saluto ciao ciao Grazie a tutti.